Il responsabile tecnico gestione rifiuti è una figura regolata dal decreto legislativo 152 del 2006, con ruoli e responsabilità definiti dalla legislazione ambientale. Per operare, deve ottenere l'idoneità superando un esame organizzato dall'albo nazionale gestori ambientali e deve rinnovarla ogni 5 anni. Per preparare i candidati all'esame, Vega Formazione ha creato il Corso completo per responsabile tecnico gestione rifiuti, che include un modulo introduttivo obbligatorio e quattro moduli di specializzazione opzionali, a seconda degli interessi dei partecipanti. Il corso non abilita direttamente al ruolo, ma è rivolto a chi vuole prepararsi per l'esame di idoneità o mantenere la qualifica. Inoltre, è valido per acquisire le ore di formazione previste dalla norma UNI 11720 per il manager HSE. Durante il corso verranno svolte esercitazioni e verifiche basate sui quiz dell'esame. I partecipanti avranno accesso a un simulatore d'esame per testare la loro preparazione e praticare realisticamente la prova, sia durante il corso che successivamente.